ho visto una stella cadente esprimi il desiderio prena ma viola che tornessi indietro nel tempo 30 maggio stadio olimpico finalissima di coppa dei campioni roma liverpool oddio la roma siamo all'ultimo rigore ciccio gazziani si abbassa mette la palla sul dischetto fa beppiare l'incorsa poi ci ripensa se ferma si gira a sinistra verso la tribuna di vere ma guarda lo guardo e io nel silenzio totale assoluto dello stadio gli dico ciccio se può fare se può fare breve ricorsa stancato amicidiale valla da una parte del portiere all'arte la rete se confia e la storia si riparta campioni d'europa campioni d'europa